Antonelli, oggi presentate una proposta di legge che riguarda il diritto allo studio nella nostra regione. Di cosa si tratta? È un progetto di legge che noi abbiamo deciso di aggiornare a causa dei dati tristissimi della dispersione scolastica emersi soprattutto nell'ambito della pandemia. L'ultima legge regionale risale al 1978, una legge troppo vecchia che non è al passo con i tempi, al passo della società che cambia e la scuola che cambia con la società. Una legge che intende mirare all'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti, fare in modo che nessuno resti indietro, che tutti gli studenti siano al passo con i tempi e interventi legislativi che vadano in questa direzione per evitare che nessuno studente, nessuna studentessa rischi di dover abbandonare la scuola per problemi legati alla povertà, per problemi legati al divario digitale. E per tantissime altre problematiche che abbiamo deciso di affrontare in questa proposta di legge.